Iniziativa congiunta dei sindacati lombardi pensionati di CGL, Cisle e Will per chiedere alla regione una legge che rinnovi le RSA facendole diventare luoghi dove vivere serenamente la vecchiaia, avviata a tal fine una raccolta firme presso tutte le sedi di SPCGL, FNP Cisle e Wilp Will. Dopo la tragedia delle tante morti per Covid nelle case di riposo la scorsa primavera, queste strutture, che in Lombardia ospitano circa 63.000 persone, rischiano nuovamente di passare in secondo piano nella discussione politica, dicono i sindacati, che hanno preparato un documento in otto punti. Tra questi lo sviluppo di forme di residenzialità aperta o leggera, l'integrazione delle RSA nella rete dei servizi sociosanitari territoriali, l'incremento dell'assistenza alle persone più fragili, la sostenibilità delle rette, il rafforzamento degli organici e l'avvio di percorsi formativi, la garanzia delle visite da parte dei familiari in condizioni di sicurezza. Urge affrontare con la Regione, dichiara Sandro Bertini, segretario SPCGL di Sondrio, una approfondita discussione di merito che porti a rivedere una serie di parametri, qualità del servizio, modalità di accreditamento, sostenibilità delle rette, adeguatezza del personale sanitario e sociosanitario.